Allora pensate, dopo l'agosto del 1989, quando noi decidemmo di chiamarci come lei, a Natale abbiamo fatto il primo concetto ufficiale della Corale Brunella Maggiore. Si chiamava Serata per l'Aila, quante altre edizioni di quel concetto. Il primo l'abbiamo fatto qui in parrocchia e abbiamo trovato il primo Madonna della fede cantato per lei. Allora adesso invito Mauro a riproporlo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.